Continua il terremoto politico a Chiaramonte-Gulfi e il sindaco Sebastiano Gurrieri costretto a fornire spiegazioni alla luce non solo delle recenti critiche politiche ma anche di una maggioranza che non c'è più. Gurrieri non ha più i numeri per governare, ormai da diversi giorni. Dopo i consiglieri Giovanni Presti e Giancarlo Gurrieri si sono dichiarati indipendenti i consiglieri Elvira Ballato e Vito Pavone. Prima di loro sono stati cacciati dalla maggioranza il vice sindaco Paolo Battaglia e l'assessore Veronica Sammatrice. Quest'ultima già rimpiazzata con il neo assessore Gianvito Messina. Resta ancora da capire chi prenderà il posto di battaglia e a chi andrà la delega di vice sindaco. Come è noto il sindaco Gurrieri ha revocato con un decreto sindacale del 30 luglio le deleghe affermando di essere stati loro a provocare la rottura. I due ex assessori hanno invece replicato fornendo motivazioni ben diverse. È ormai chiaro agli occhi di tutti e scritto nella nota che sin dall'insediamento ci siamo battuti per poter svolgere il ruolo per il quale ci siamo candidati e per il quale i cittadini ci hanno votato. Lo abbiamo fatto nonostante non avessimo ancora le deleghe e per il quale abbiamo aspettato quasi due anni dall'insediamento. A nulla sono servite quindi le riunioni e gli inviti scritti, sottoscritti anche da tutti i consiglieri di maggioranza a far cambiare modo di operare al sindaco, il quale ha sempre preferito decidere tutto da solo rendendoci effettivamente partecipi soltanto al momento dell'approvazione in giunta. Ha provato fin dall'inizio a creare un rapporto stile sia all'interno del gruppo sia con tutti i dipendenti comunali. Costretto a chiarire, quindi il sindaco Gurrieri replica punto su punto. Dicono di non aver avuto le deleghe fin dall'inizio, eppure le deleghe di ciascun assessore erano già ben note prima delle elezioni. Purtroppo un problema burocratico che abbiamo poi risolto ha dato loro la formale assegnazione, ma fin dall'inizio, dal primo giorno del loro insediamento, hanno operato secondo le deleghe che erano state rese note. I due ex assessori poi dicono di non essere stati coinvolti più di tanto. Come già detto e falso a Chiaramonte e Gulfi durante l'anno, ci sono stati tre grandi eventi, l'estate Chiaramontana, la gara automobilistica a Montiblei e il Carnevale, e tutti i cittadini, gli operatori commerciali, le associazioni, sanno quale ruolo di assoluto primo piano, anche rispetto all'organizzazione, hanno avuto i miei due ex assessori. E sul rapporto con i dipendenti del comune, anche qui vengono dette cose false. Dicono che non ho un buon rapporto con i dipendenti comunali. C'è invece un ottimo rapporto di grande collaborazione con praticamente la totalità dei dipendenti che possono testimoniare. C'è poi la vicenda politica. L'ex capogruppo Ballato, nel Consiglio del 29 aprile, ha presentato una proposta differente, non condivisa, da quattro consiglieri su sei di maggioranza, con il rischio di disarmonizzare il bilancio comunale e creare danni nelle tasche dei cittadini. Paradosalmente, l'assurda posizione assunta dagli ex assessori è proseguita fino alla data del 30 luglio scorso, quando, provocatoriamente, con nota protocollata, mi hanno invitato a portare avanti la mozione promossa da Ballato, accusandomi di non aver addempito al mio compito. Non ho potuto far altro che allontanarli dalla squadra assessoriale. Grazie a tutti.